non c'è ancora la fumata bianca non c'è ancora il nome del nuovo allenatore i tifosi della paganese dovranno ancora aspettare tra l'altro sembra pure lontana l'intesa per una collaborazione con il parme altre società di serie a per avere in prestito giovani di valore il club ducale si starebbe muovendo in altre direzioni e con altre società ma domani la paganese dovrebbe essere comunque in emilia per cercare di avvicinarsi nuovamente alla possibilità di avere giocatori importanti in prestito insomma il presidente raffaele trapani ha il suo bel da fare dovrà trovare la soluzione giusta sapendo che non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca nel senso che per avere determinate garanzie di qualità da inserire nella nuova rosa ci vogliono anche investimenti mirati trapani però non vuole scottarsi questo lo sappiamo bene sa che la gestione economica del club viene prima di qualsiasi affare di mercato questo per cercare di tenere sempre accesa la fiammella del calcio professionistico a pagani ma torniamo al nome del possibile nuovo allenatore resta in piedi l'ipotesi marco cari così come non ha da escludere un ritorno di fiamma per stefano cuoghi nelle ultime ore è spuntato anche il nome di fabio brini appena uscito di scena dai playoff di lega pro col benevento eliminato da lecce in semifinale insomma l'identikit tracciato da trapani è quello di un tecnico esperto carismatico che conosce bene la serie c la serie d invece il campionato dal quale tifosi della nocerina sperano di poter ripartire ma sarà veramente difficile che ciò avvenga bisognerà capire innanzitutto dove sarà relegato dalla figici l'attuale sodalizio che sta vivendo tra l'altro un finale di stagioni inaspettato con la favola dei propri giovani gli allievi che dovranno giocarsi lo scudetto nazionale nelle finali di chianciano poi ci sono i progetti alternativi societari c'è chi spera nel ritorno di gambardella chi paventa la possibilità di un avvicinamento di imprenditori non nocerini come il patron della versa spezzaferri già contattato l'estate scorsa tutti i progetti che comunque riguarderebbero una nuova nocerina una nuova società che sarebbe inserita con tutta probabilità in eccellenza il problema e lo andiamo dicendo da settimane è uno e resta uno soltanto le disponibilità economiche oggi nel calcio non si inventa nulla e per ripartire da zero o più avanti servono soldi solo soldi sonanti altrimenti si sarà soltanto fatto tanta polvere tante chiacchiere grazie grazie